Le scansioni oculari possono rilevare i primi segnali d'allarme per determinate condizioni, incluso anche le demenze e il Parkinson. Le immagini ad alta risoluzione della retina oculare svolgono infatti un ruolo di routine nella cura degli occhi ed esiste un tipo di scansione 3D in grado di produrre una sezione trasversale della retina con dettagli incredibili. I ricercatori di due importanti ospedali di Londra, l'Institute of Ophthalmology e il Murfield Eye Hospital, hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per rilevare le malattie neurodegenerative che potrebbero essere effettuate attraverso un modo non invasivo, a basso costo e più rapidamente. Una scansione oculare quindi potrebbe aiutare a identificare soggetti con Alzheimer, sclerosi multiple e persino schizofrenia, ora anche la malattia del Parkinson, fino a sette anni prima della diagnosi. Trovare segni di una serie di malattie prima che emergano i sintomi significa che in futuro le persone potrebbero avere il tempo di apportare modifiche al proprio stile di vita per prevenire l'insorgere di alcune condizioni e i medici potrebbero ritardare l'insorgenza e l'impatto dei disturbi neurodegenerativi.